Salve a tutti e ben ritrovati dopo l'instabilità pomeridiana che ci ha interessato nei giorni scorsi. L'anticiclone proverà a guadagnare spazio verso la nostra penisola, inglobando anche la Puglia, infatti nel corso del weekend avremo un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche con ancora qualche isolato temporale ma con temperature che segneranno un ulteriore lieve aumento superando anche i 30 gradi. Vediamo quando e dove. E infatti nella giornata di oggi avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso con ancora una moderata instabilità nel corso delle ore pomeridiane temporali che si formeranno sulle zone interne nella Puglia, sul subappellino Dauno, sull'alto piano delle murge e tenderanno poi velocemente a scendere verso la Basilicata. Temperature che saranno in legamento rispetto ai giorni scorsi con valori comunque piacevoli intorno ai 26-29 gradi. Ventilazione moderata dai quadranti settentrionali. Nella giornata di domani sabato 12 giugno avremo una situazione che vedrà ancora qualche isolato temporale pomeridiano sulle zone interne ma preparerà comunque il sole. Su gran parte della regione temperature che saliranno ulteriormente nei valori massimi e sfioreranno i 30 gradi specie sul tavoliere mentre nell'interland barese si andrà anche leggermente oltre questa soglia. Ventilazione ancora moderata o debole dai quadranti settentrionali. Chiudiamo infine con domenica 13 giugno. Avremo una situazione che vedrà un ulteriore miglioramento. L'instabilità pomeridiana verrà relegata a qualche isolato piovasco sulle zone più interne sempre nel pomeriggio ma sarà ancora una giornata in prevalenza poco lungolosa con temperature che aumenteranno ulteriormente, valori oltre i 30 gradi sul tavoliere, barese e anche sull'arco ionico tra il Tarantino ed il Leccese. Per ora è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando come sempre a lunedì. Buon weekend!